Penso che per 40 minuti non abbiamo omolato difensivamente un'altra volta e questa è una cosa su quale veramente ci stiamo lavorando e i ragazzi stanno capendo poco a poco che questo deve essere la nostra forza e il punto di partenza. Abbiamo trovato anche spazi un po' per i giovani, soprattutto Paiola che ha tenuto campo veramente in una giusta maniera, oggi nonostante un paio di errori che non mi sono piaciuti in quarto a quarto, ogni vittoria fuori casa è importantissima, la vittoria qui a Pesaro è valida, super valida per noi, sinceramente non guardo neanche le classifiche in questo momento, guardi il lavoro quotidiano, guardi i video, guardi gli avversari, guardi i tuoi giocatori, cerchi di migliorare anche con la società, si parla tanto, il processo è appena cominciato, la classifica sinceramente non importa in questo momento.